a loro volta in Ucraina. Ora torniamo alle questioni italiane. Il cosiddetto sciopero, la serrata dei balneari, non ha raggiunto una compattezza totale su tutte le spiagge italiane. È andata un po' a macchia di leopardo. Vediamo. Lo sciopero degli ombrelloni non riesce a mobilitare l'intera categoria dei balneari. Infatti, se Sib, Confcommercio e Fiba, Confesercenti, aderiscono a recitazione, a Sobalneari e CNA si sfilano e parlano di iniziativa spot. Alla fine, dunque, un'astenzione dal servizio a macchia di leopardo. Quasi nessun effetto in Calabria, mentre è tutt'altro risultato in Liguria, dove il 90% degli stabilimenti si astiene dal servizio per due ore. Intanto il governo chiarisce che le attuali concessioni sono valide almeno fino al 31 dicembre di quest'anno e in più i comuni avrebbero anche la facoltà di estenderle al dicembre 2025. Ma l'Europa richiama il nostro paese per non aver indetto le gare previste dalla direttiva Bolkenstein. Sempre critiche le opposizioni. Per maggio, più Europa, più che uno sciopere, una liberazione di chi ormai abusivamente occupa le spiagge italiane, servivano gare prima per non arrivare a questa situazione d'incertezza. Palazzo Chigi ha rimandato la questione balnearia al prossimo Consiglio dei Ministri, che si terrà dopo la pausa estiva. Dal Quirinale arriva la firma di Sergio Mattarella alla legge di riforma di alcune norme del codice penale, di quello di procedura penale, che ora entra in vigore. Il Presidente della Repubblica non ha mosso alcun rilievo a provvedimento, che tra le altre misure contiene anche l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. Il placet del Quirinale è arrivato dopo l'approvazione del decreto carceri da parte della Camera, che include l'introduzione del reato di peculato per distrazione, che in qualche modo colma il vuoto normativo creato dall'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. Ma l'emergenza carceri resta e fa salire la tensione anche all'interno della maggioranza. Mulet, Forza Italia, infatti, chiede polemicamente se il sovraffollamento non riusciamo a risolverlo, che ci stiamo a fare al Governo? Una domanda che almeno fino alla ripresa a settembre è destinata a restare senza risposta.